benvenuti benvenuti cari amici sono b di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di di suggerimento di like iscriviti al canale iscriviti anche nella telegram mi state ancora una volta tempestando con il meme spongebob andiamo a vedere il tutto ovviamente se avete altre pre-sale altri progetti potete iscrivermi sia in tiktok sia soprattutto tiktok perché vedo che state rispondendo in maniera pazzesca sia su instagram e su telegram ovviamente io andrò a selezionare quelli che secondo me sono i progetti più interessanti i progetti anche che sono del momento in modo tale da aggiornarvi e darmi la mia idea sui progetti da voi selezionati quindi ogni tanto due barra tre volte a settimana io vado a fare dei video esclusivi come vedete il secondo video giornaliero per andarvi informare su questi progetti e per cui iniziamo subito per cui eccoci qui andiamo a parlare di spongebob perché mi state letteralmente tempestando ok con questa pre-sale per cui andremo a vedere il tutto così ad occhio ve lo dico mi ricorda un po vsm quindi potremmo avere rendimenti e nel breve periodo ma poi abbiamo visto un po quello che ha fatto che vsm c'è stato un grosso dump e vedremo che si sarà capace di tornare ora riassumendo spongebob in sostanza come vediamo anche dal sito che è un meme x ok x y z però stanno facendo veramente un marketing importante ci sono andato a vedere anche in generale ci sono tantissimi canali ok che ne stanno parlando soprattutto all'estero quindi penso che potenzialmente stanno raccogliendo tanto e potrebbero dar vita quella piattaforma che e si parlano cioè di questo play turn al momento come dichiarato da loro anche in sostanza che spongebob non serve a nulla che un meme che non serve a niente è come vediamo anche da da qui dei dati sono stati raccolti finora a 4 milioni e 95 mila dollari che sono assolutamente pochi e ovviamente se voi vorreste acquistare spongebob perché girano tantissimi scami lo ricordo sempre all'interno di ogni video io vi lascio sotto il link in descrizione ok così siete sicuri ok che partecipate alla presale quella originale e potete acquistarlo quindi o attraverso ethereum o usdt o attraverso carta queste sono le modalità attraverso quali è possibile acquistare spongebob e tra l'altro volevo anche per l'appunto farvi vedere un po il sito non ci sono state modifiche però sta continuando in sostanza quello che primo è l'aumento del prezzo perché pensate la prima presale dalla prima fase il prezzo aumentato del 2700% che è assolutamente poco al lancio della v1 comunque c'era uno zero in meno e ha fatto circa un 30x ok da allora poi vedremo momento il listing a quanto verrà listato se verrà listato sui checks perché qui si parla di listing sui principali checks però tra il dire e il fare come si dice in gergo c'è di mezzo il mare quindi attenzione perché vi dico sempre potenzialmente può far bene come ha fatto vsm all'inizio con listing sui checks arrivò su bybit arrivò su bing x cioè non arrivò è arrivata ok e quindi sponge potrebbe far bene sembra la presale del momento che è un po quella che sta raccogliendo tra virgolette più capitali ovviamente se avete anche voi altri progetti che ritengo tra virgolette interessanti perché vi ricordo sono progetti comunque iper mega rischiosi vado a selezionare e diamo una tematica in più ok a questo canale poi ovviamente voi sapete che io regolette sono così dall'altro il re di meme in italia quindi insomma mi piace trattarlo vi dico secondo me o è un progetto che va a fare tanti x non non penso tantissimi ma di 5 10 x ok nel breve oppure muore ci saranno via di mezzo ok anche perché le pre sale tendono a avere questi comportamenti ok poi io lo spiego anche dentro il gruppo cowboy quindi chi dentro il gruppo cowboy sa come sto gestendo le varie cose tra l'altro quindi ti consiglio anche se vuoi fare accol gratuita vieni dentro vediamo quelli che sono un po le tue le tue i tuoi obiettivi primo e le tue esigenze secondo ora che cosa si professano loro raggiungimento di 100 milioni di capitalizzazione 13 mila holders listaggio su più di 10 checks vedremo se effettivamente sarà così e poi guadagni spettacolari ora guadagni spettacolari non vuol dire niente ok ma è questo che stanno spingendo l'oro insomma stanno spingendo sul marketing bisogna vedere anche quanti soldi raccolgono per dar vita al tutto e soprattutto poi vorrebbero fare questo play turn quindi in sostanza guadagnare giocando che è il gioco di sponso quindi potrebbe diventare un meme legato al settore gaming quindi direi fortemente interessante poi qua ci spiegano un po come comprarla tokenomics ve l'avevo già spiegata se volete ribadiamo ma sono sempre quelli numeri ok 27 per cento per quanto riguarda i bridge di sponge 43 per quanto riguarda le rewards in staking 7.50 per cento marketing 4.40 per 4.47 per cento game development 8 per cento play turn e 10 per cento per quanto riguarda i checks questo in sostanza sponge queste sono le fasi stiamo vivendo la fase 1 fase 1 all'interno della quale per l'appunto siamo in pre sale dopo si potranno clamare ok spongebob e successivamente ci saranno gli listing quindi io che cosa prevedo che effettivamente se arriveremo sui checks la probabilmente bisognerà vendere perché il più sarà fatto sappiamo come tante volte i checks vengono pagati in token e quindi anche giusto uscire ok tra virgolette poi vedremo vedremo anche in base al al momento di mercato nel quale ci troveremo detto questo che il loro obiettivo è 100 milioni market cap insomma un obiettivo un po' ambizioso al momento però ma ci sono vari progetti che l'hanno aggiunto e volevo dirvi che ovviamente come dichiarano loro spongebob versione 2 non alcuna associazione con nickeleodon e il vero spongebob quindi attenzione ok perché magari qualcuno poi pensa a tutto questo vi ricordo come sempre che non sono le cosiddette di trading ma io vado a selezionare i progetti da voi più richiesti dopo di che andiamo a vedere quello che potrebbe succedere perché non so se vi ricordate la famosa pre sale di wall street meme che poi è letteralmente dampato guarda qui 17 milioni market cap però wall street meme stava un 7x ok aveva raggiunto i 7 centesimi insomma aveva fatto b numeri e dopo c'è stato questo drop violento ora spongebob potrebbe fare un qualcosa di simile cioè magari andare a sfruttare l'hype ok che si potrebbe creare sui checks se sarà listato potrebbe avere tanti volumi e di conseguenza spingere e dopo potenzialmente crollare perché sapete che poi le mode passano ma anche ritornano vedi bonk era crollato il 90 per cento quindi attenzione ok a queste coin soprattutto quando sono altamente in hype come è avvenuto su wsm all'epoca e soprattutto volevo mostrare anche quello che loro twitter che al momento comunque raccoglie 30.000 follower che non sono assolutamente pochi ma insomma iniziano a crescere in maniera consistente oggi ci parla nel raggiungimento comunque di 6 milioni di token messi in stake e volevo dirvi questo a me lo staking non è che piace perché l'API ora lo sta abbassando 269 per cento però è un po' altino ok quindi attenzione per lungo periodo cioè metterlo in staking vi dico a me non gasa cioè io non andrei mai a metterlo in staking in qualsiasi token almeno che veramente non vedo dei API delle cose però questo lo spiego anche nel gruppo cavo e anche nei corsi che ho fatto quindi questa è una cosa a parte però mi sento giusto ok di dirvelo sono più per il trade di breve ok io sono uno che tende a speculare poi scapo via lo sappiate detto questo qua il twitter quindi se volete seguire i loro aggiornamenti potete seguirli e soprattutto se volete seguirle anche su telegram al momento contano quasi 10.000 iscritti quindi insomma potete andare a spucciare tutto il progetto e poi qui se vi è piaciuto questo video ti ricordo di lasciare il botone like iscrivetevi al canale e se avete altri progetti iscrivetevi in DM su Instagram, TikTok e Telegram Hasta la vista! Hombre! Grazie a tutti!